In uno scontro tra un leone e una tigre, chi vincerebbe? Questo è il quesito del video diventato virale. Potremmo iniziare chiedendoci chi è più grande, chi è che ha la strategia di caccia migliore. Ma ha senso porsi questa domanda? Tutto parte da un'impossibilità. In natura i due felini non si incontrano mai. Ed inoltre il quesito non è scientifico, è un rompicapo. Se prendessimo in esame solo le caratteristiche fisiche dell'animale, faremmo un grande errore. La capacità di un leone o quella di una tigre non sono solo fisiche, sono anche mentali. Le capacità cognitive potrebbero ribaltare ogni ipotesi di risultato della partita. L'individualità è una cosa che noi tendiamo ad ignorare quando parliamo degli altri animali. Anche gli altri animali hanno un proprio carattere, un proprio temperamento e una propria personalità. Ogni specie reagisce con flessibilità all'ambiente. E le soluzioni che trovano possono essere anche diametralmente diverse. Ma so che per riuscire a parlare degli animali in questo modo, la strada è molto lunga. E anche costellata da fallimenti, fraintendimenti e scetticismo. Però dovremmo provarci insieme. Perché una cosa è certa, con video come questo ci si rende conto che ancora oggi sottovalutiamo le abilità degli altri animali in maniera imperdonabile.